Dalla Carbonara, sette, con calma eh, ascoltiamo il fresco prima, prima il tuo nome, vero, aspetta, bene, allora, chi cazzo sei? Sono Care. Hai scelto il tuo nome di pastetto? Dalla Carbonara. Dalla Carbonara, Care. Ora hai scelto il numero che va da 1 a 8, scelta, ora una voce con il campo, che può essere quella del mio spaghetto colante, c'è leggera la sette, ma... Io preferirei davvero che tu evitassi di andare in giro raccontando alla gente che io ti ho parlato. Non sei mica così importante, finiscila. E poi ho detto di amare il tuo prossimo, ma mi capisci o no? Hai capito? Non c'è. Bene. Ci si impegna. Ci si impegna. Ora, con i poteri conferiti, mi faccio questa mariana italiana, chi nomina un padamma di Otto Laban. Eh, con i occhiali però... ARRRRRR! RÄMER! GIOBE! GIOBEFFIERRA! ARRRRRR!